Il generale Roberto Vannacci è intervenuto nel pomeriggio di oggi a Chieti in una sala del Consiglio Provinciale Gremita per presentare i suoi due libri Il Coraggio vince e Il Mondo al contrario. Roberto Vannacci, 56 anni, originario della Toscana, 37 anni trascorsi in divisa con l'uniforme dei paracodisti al suo attivo numerose missioni di guerra in Somalia, Afghanistan ed in Iraq, parlando del suo ultimo lavoro editoriale, ha affermato che... Questo è un libro che intreccia la mia vita con le tematiche del mondo al contrario, in modo tale da fornire la chiave di lettura originale, quella genuina. Visto che nel primo libro ci sono state tanti che deliberatamente hanno voluto travisare, snaturare, falsificare i miei pensieri, con questo secondo libro sono sicuro che chi poteva nutrire dei dubbi avrà le sue risposte. Sono convinto che quelli in mala fede che hanno travisato inizialmente non li ricopererò più, perché questa opera di falsificazione è stata fatta proprio in maniera deliberata e quindi è inutile nutrire speranze. Le sue dichiarazioni spesso hanno sollevato reazioni e a volte anche polemiche. Su qualcuna di quelle rese avrebbe magari voluto usare altri toni oppure si è pentito di averle fatte? No, non ho mai fatto un passo indietro e non lo farò, perché quello che ho detto è quello in cui credo, è quello che penso. Sono sicuro di non avere offeso nessuno, di non avere leso la dignità di alcuno e quindi rimango sulle mie posizioni, non farò mai un millimetro indietro. Affrontando infine i temi europei, Vannacci ha affermato. Un'Europa più meritocratica, dove un giovane possa basarsi solamente sulle proprie caratteristiche, sui propri meriti, per riuscire a realizzarsi nel miglior modo possibile. Vorrei che quello che è stato chiamato sino ad oggi sogno americano si trasformi nel sogno europeo e nel sogno italiano. E vorrei anche un'Europa più libera, dove nessuno debba più avere paura di esprimere le proprie idee o le proprie opinioni, dove non ci siano argomenti tabù, dove neanche il Papa debba temere di esprimere quello che pensa.